Calmatevi, il dolore passerà presto. Dove mi avete portato? Da nessuna parte. È stato un uomo a lasciarvi qui. Ha detto qualcosa? Solo questo. Dovrete incontrare Messer Machiavelli davanti al mausoleo di Augusto. Vi aiuto a vestirvi. Questi abiti me li ha dati l'uomo che mi ha portato qui. Sì, Messer. Ah, Roma. Sì, ho quel che ne rimane da quando i Borgia sono al potere. E il mausoleo? Sfortunatamente non è visibile da qui. Forse lo è dal tetto di quella chiesa. Sì, ma le scale sono inaccessibili. Non sarà un problema. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, buona donna. Addio. Devo trovare un medico. Ah, il braccio. Salute. Vi serve una medicina. Fate vedere. Un uomo della vostra età non può guarire da una tale ferita con una medicina. Questo è per lenire il dolore. Guarirete col tempo. Grazie. Quattro dottori su cinque suggerirebbero le sanguisughe, ma non è dimostrato che funzionino in questi casi. Tuttavia, posso consigliarvi tanti bravi colleghi in città. Avete bisogno d'altro? Avanti, non siate timidi. Voglio solo aiutarvi. Un uomo della mia età. Ma senti... Tutti i fedeli delle grini venuti in adorazione oppure di passaggio. L'ufficio del cancelliere è a porra dal tuo popolo. La schiena. Non ho permesso. Che mi importa. Non ho permesso. Pare che uno zotico stia resistendo all'arresto. Gli faremo vedere noi come funzionano le cose sotto i borgia. Machiavelli può attendere. Grazie. Grazie. Nel vino Carlo. Viva i baci in assenza di promessa di matrimonio! Fissata in mille fiorini! Fissata in mille fiori! 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 Ezio! Che sorpresa vederti qui. Credevo mi avessi mandato a chiamare. Mai! La notizia dell'attacco alla villa si è sparsa per la città. Eravamo certi che fossi morto. Non direi. Sono ancora abbastanza vivo. I Borgia non devono sapere che gli sei sfuggito. Seguimi. Cerca di non attirare attenzioni indesiderate. L'ho mai fatto? Ti conviene acquistare qualche utile strumento. Non sopravviverai a lungo a Roma senza. Ho la mia lama. E le guardie hanno armi da fuoco, grazie ai Borgia. Per fortuna posso aiutarti. Grazie. Visto che mi sei debitore, forse ascolterai delle parole assennate. Non appena ne sentirò, te lo farò sapere. La mia recente ricerca di nuovi fornitori ha dato buoni frutti. E voglio... Tornate a trovarmi quando ripassate di qui. Ora puoi riuscire a tornare sano e salvo a Firenze. Potrei, ma non sono diretto a Firenze. Non ci sarà pace finché non ci solleveremo contro l'intera famiglia Borgia. E i Templari al suo servizio. Non eri così determinato, Monteriggioni. Come potevo sapere che mi avrebbero trovato così presto? E che avrebbero ucciso Mario? Rodrigo si circonda di serpi e sicari. Persino sua figlia Lucrezia è diventata una delle sue armi più letali. Ma anche ella non vale nulla. Al confronto di colui che sta dietro l'attacco alla vita. È ambizioso, spietato e crudele oltre ogni immaginazione. Per lui le leggi degli uomini non contano nulla. Ha assassinato il suo stesso fratello per sete di potere. Non teme né il pericolo né la fatuca. Chi non cade trafitto dalla sua spada fa di tutto per unirsi ai suoi ranghi. Le potenti famiglie degli Orsini e dei Colonna si sono dovute inginocchiare ai suoi piedi e il re di Francia e il suo alleato. Dimmi il suo nome. Cesare Borgia, capo dell'esercito papale. Come intende esercitare il suo potere? Che cosa lo spinge? Ancora non lo so. Ma, Ezio, Cesare ha posato gli occhi sull'intera penisola. E se continua così, sarà sua. E ammirazione, quella che sento nelle tue parole? Egli sa come ottenere dei risultati. Una virtù rara al giorno d'oggi. Egli sa come ottenere dei risultati. Non ci conviene andare a cavallo. Roma è assai vasta. Col susseguirsi delle conquiste di Cesare in Romagna e l'aumentare dell'influenza dei Borgia, le zone migliori della città sono passate in mano loro. Non possiamo usare le scuderie. Oh, adesso la volontà dei Borgia è legge. Stai insinuando qualcosa, Ezio? Non fare il finto tonto, Machiavelli. Hai qualche piano in mente? Sto improvvisando. Il ruolo di mercato dell'aff�azione. Io sono rilusione. Non vale la pena voi, Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Viva i Borja! Ucci... Mostriamogli l'ospitalità dei Borja, ragazzi! Venite, pigroni! Abbiamo un assassino... Mostriamogli l'ospitalità dei Borja, ragazzi! Mio Dio, un'altra povera anima che si incammina verso San Piazzo. Posso trovare... Ecco l'uomo. Presto. Presto. Ci sta asseminando. Seguitelo. Forza. Lasciatemi andare di grazie Solo perché hai ucciso qualche guardia non ti accoglieranno a braccia aperte alla scuderia Hai ragione, dobbiamo lanciare un segnale Aspetta qui Sua eccellenza illustrissima, Cedale Bargia Chiede a tutti gli onorevoli abitanti del regione di rispettare le nuove norme sulle tasse E di pagare regolarmente, non sui tasso, che le note benedie A quanto pare adesso possiamo acquistare la scuderia Dopo di te A seguito dell'incendio della settimana scorsa a Barione Si richiede a tutti i preti laici Di portare con sé una lampada e un secchio d'acqua Ogni con volta predichino in un pienile Chiunque abbia sottratto il bambino Dalla statua della Madonna col bambino Incassata nel muro sopra la bottiglia casellaria Potrebbe... La recente epidemia squina nelle campagne Il Consiglio regionale chiede a tutti i banchieri di parcheggiare... Vai, vai! Sei un maestro nell'aprire ferite, ma sai anche farle rimarginare? Io intendo curare la malattia, non i suoi sintomi. Non ce l'arti dietro le parole. Bene, allora parliamo apertamente. La morte di Rodrigo Borgia non ha peperi sotto nulla. Sento di doverti sentire. Guarda la città, il fulcro del potere dei Borgia e dei Templari. Uccidere un solo uomo non cambierà nulla. Dobbiamo estirpare la fonte del loro volo. Mi stai suggerendo di fare appello al popolo? Forse. Affidarsi al popolo è come costruire sulla... Ti inganni. La fede nel genere umano è il cuore della nostra confraterna. Deve essere un tuo adepto quello. Va, recupera ciò che ti ha rubato. Vediamoci al Campidoglio. Ma tende una persona di fiducia. Ridammi il mio denaro! Torna qui! Sparisci prima che mi penta di averti risparmiato la vita. Credete forse di far colpo il tuo servitore? Perfetto! Non l'abbiamo! Noi non ci farei. 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 Siete un tipo bizzarro. Hai ripreso il tuo denaro dal nostro amico? Certo. Una piccola vittoria. Si accumulano. E col tempo lavorando ne avremo ancora di più. E col tempo lo sguardo di Cesare si volgerà a noi e torneremo poveri. Ma dov'è finito Vinicio? Avrebbe già dovuto intercettare la lettera. Seguimi. Vai, vai! Ehi Desmond, non so se cerchi qualcosa del soggetto 16, ma l'ultima volta l'occhio dell'acqua è tornato utile. Guarda quei pantocci mascherati da governo. Il Papa è molto abile a fare i propri interessi e riesce a ingannare il tuo amico popolo piuttosto facilmente. Quando sei diventato così cinico? Ho solo descritto la realtà romana di oggi. Ma forse non tutto è perduto. La buona notizia è che abbiamo degli alleati in città. Ma per quanto ancora, non saprei dirlo. Cercava di sottrarre missive ufficiali del Vaticano. Perdonatemi signore, siete in errore. Per chi lavori, ladro? Non lavoro per nessuno. Allora a nessuno ne importerà cosa faremo di te. Grazie. Allora, dov'è? Ce l'ha ancora il corriere. Ezio, fermalo. Ci vediamo alle terme! Ciao! Ciao! Vai, vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Grazie a tutti. 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 Ora ho il modo di tornare quassù. Grazie a tutti. 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 Perfetto. Perfetto. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.